Duro a fondo del capogruppo di MDP Leo Antonio Conte e dei consiglieri comunali Antonio Petrone e Teresa Di Candia. Alla base dell'attacco l'illegittimità riscontrata dall'ANAC nell'affidamento del centro polifunzionale dei Santi Cosma e Damiano alla cooperativa Nuova Ises. Il procuratore nazionale anticorruzione, affermano i tre consiglieri, ha sanzionato il comune di Eboli per la vicenda della Casa del Pellegrino, rimettendo gli atti alla magistratura ordinaria e alla Corte dei Conti. Il comune rischia il fallimento, il sindaco non si eserciti a sottovalutare, a depositare con difese destinate a causare spese e non soluzioni utili e convochi il consiglio comunale per far fronte con una proposta condivisa e seria ad un danno che si aggira oltre i 5 milioni di euro.